Con 455 voti ottenuti, Giulia Marchionni viene reeletta in Consiglio Comunale come seconda candidata più votata nella coalizione di centrodestra e come prima della lista Pesaro-Svolta. Un risultato importante a livello personale, ma che a livello collettivo vi lascia all'opposizione. L'obiettivo era la vittoria di Marco Lanzi e tutti i candidati, a cui dobbiamo un grande ringraziamento, negli ultimi 100 giorni hanno galoppato per riuscire a sostenere Marco. Sicuramente, purtroppo, l'esito delle urne, la democrazia parla chiaro, non ha dato il risultato che speravamo. Saremo all'opposizione e lo faremo con un grande risultato, sia in termini di voti, perché la lista civica è stata forte, ha avuto un grande consenso su tutto il territorio pesarese, ma lo faremo anche consapevoli che bisogna iniziare a costruire il futuro. Da questa sconfitta si riparte per cercare di fare ancora meglio la prossima volta. Dopo dieci anni cambia il sindaco e cambia parzialmente il vostro schieramento all'opposizione. Restano però alcuni punti fermi ed entrano alcune novità, a cominciare da Marco Lanzi. Marco sarà con noi in consiglio e questo sicuramente ci darà sia forza, sia vigore nel lavoro che faremo come opposizione. Per quanto riguarda gli altri, sicuramente va fatto un grande in bocca al lupo ad Andrea Biancani, che le urne hanno voluto sindaco di Pesaro, però poco cambia. Il personalismo secondo me sarà lo stesso, il grande strapotere che avranno in consiglio comunale, con tanti consiglieri di maggioranza, ci farà soffrire perché non abbiamo i numeri per contrastarlo, salvo la possibilità, e questo mi auguro possa esserci, di trovare sponda su proposte che possano essere condivise. Perché ci è capitato alla fine della consigliatura sul tema, ve lo ricordate, della variante di Soria, in cui abbiamo trovato la convergenza con alcuni consiglieri della loro maggioranza. Ci auguriamo che nel prossimo futuro qualche collega che oggi siede nelle file del centro-sinistra, comunque possa collaborare con noi per trovare una grande condivisione sui temi e sulle proposte. Andando dalla coalizione ai partiti fino al profilo personale, questi 455 voti rappresentano per Giulia Marchionni un sintomo di fiducia importante sulla città. Sì, sono un peso, questo lo devo dire, ci ho messo un attimo a realizzare il grande risultato, che è un risultato sicuramente personale, ma è un risultato di squadra. In questi cinque anni sono molto contenta e fiera della grande rete di rapporti che ho tessuto e oggi si vedono i risultati. In politica i numeri contano e contano le persone. Fiera è orgogliosa di essere un punto di appoggio e un punto fermo nel centro-destra pesarese.